Aspettiamo il team, perfetto. Ok, benvenuti a tutti di nuovo. Oggi iniziamo la parte A del corso, complementi di programmazione. Se vi ricordate, durante l'introduzione, intanto interrompetemi voi in aula se ci sono problemi a proiettore e voi online se ci sono problemi nella condivisione dello schermo o registrazione. Però è partita, quindi in questo momento è tutto a posto. Dicevo, oggi iniziamo il modulo A. È un modulo di ripasso, sostanzialmente, però rispetto agli anni scorsi ho notato che spendevo molte ore in questo modulo. Sicuramente è beneficio di chi magari era un po' arrugginito, però poi questo andava a discapito di tutto quello che c'è dopo, che sono cose nuove e anche difficili. Quindi magari anziché fare quello che c'è dopo di fretta, anche perché quest'anno il numero delle ore, come avete visto dall'orario, è un po' ridotto, cercherò di dare più enfasi agli argomenti nuovi, davvero nuovi del corso. Quindi, mentre qui gli anni precedenti, e comunque voi avete la videoregistrazione di questo modulo fatto tutto completo, l'anno scorso, partivamo molto da lontano, partivamo con l'organizzazione di un processo in memoria, stack, heap, cose che avete fatto. Certo, rifarle magari con un occhio un po' più attento alla pratica, andavamo qui a fare esercizi, vedere la memoria, gli indirizzi, sicuramente molto interessante, segmentation fault, eccetera, però sono comunque cose che si danno negli altri corsi, si insegnano negli altri corsi. Quello che noi faremo in questo modulo qui, oggi sicuramente, le prossime due lezioni, è parlare della traduzione cross-platform di un programma, quindi CMake è lo strumento che spiegheremo oggi. Serve per automatizzare la traduzione di un programma, serve per darvi dei strumenti che si usano oggi industrialmente, cioè, mentre sicuramente si trovano alcune librerie, alcuni framework che ancora hanno il vecchio, vedremo che cos'è, il vecchio Macfile, si usano adesso dei strumenti più moderni, come i CMakefile che servono per compilare su tutte le piattaforme. Questo è il motivo per cui chi fa il progetto di questo corso, io ho ricevuto i sorgenti, i sorgenti arricchiti di questa descrizione che ora spiegheremo oggi, e ho potuto compilarli su MacOS, o anche su Linux, o anche su Windows, quindi la compilazione adesso si può fare su tutte le piattaforme, prima in realtà no, vi spiegherò perché. Poi per quanto riguarda la scrittura dei programmi, c'era un ripasso anche della programmazione oggetti, però non lo facciamo quest'anno, della generica non lo facciamo, e andiamo invece direttamente a spiegare le cose nuove, e quindi la ricorsione, la programmazione concorrente, che in realtà rivedremo in tutto il resto del corso, perché quando si parla di applicazioni software con la grafica, con l'interfaccia grafica, sono tutte quante, tutte quante aderiscono al paradigma della programmazione concorrente, e anche la programmazione ad eventi, è un nuovo modo, una nuova filosofia di programmazione. Siamo abituati, siete abituati, penso, alla programmazione procedurale. La programmazione procedurale consiste in un unico flusso di esecuzione, esercizi che avete fatto a fondamenti e programmazione ad oggetti. La programmazione concorrente a eventi è un po' un casino, in un certo senso, cioè non c'è un unico flusso, ma ci sono diversi flussi in parallelo, e questi flussi non sono tutti in esecuzione, ma sono in attesa, per esempio, di un evento. Immaginate un'interfaccia grafica in attesa che, per esempio, in questo momento io sto usando un'interfaccia grafica, in attesa che io faccia qualcosa, se premo ESC succede qualcosa. Quindi è un'attesa di un evento che innesca l'esecuzione, non è un programma che sta girando. Cioè in questo momento il programma, nel momento in cui c'è questa slide e non ci sono animazioni, questo programma è quasi dormiente, cioè non sta usando la CPU, ci mancherebbe altro, non c'è niente da fare, ormai questo è diventato un'immagine che manda al display e non c'è niente altro da fare. Però c'è un'attesa, se io faccio qualcosa, allora sì che il programma si risveglia, comincia, per esempio il mio mouse passa attraverso questi pulsanti e il programma reagisce mostrando un'etichetta, mostrando un riquadro, e quindi c'è una reazione del programma. Per quanto riguarda invece programmazioni un po' più esotiche, funzionali, logiche, davo dei cenni gli anni scorsi, ma non sono delle cose che usiamo nel corso, che è solo un modo per dirvi, guardate, non è tutta programmazione come siamo abituati a fare, ma ci sta anche la programmazione dichiarativa, diremo che cos'è, però serve a altri contesti che non sono di nostro interesse. Quindi andiamo direttamente al dunque della lezione di oggi. Quindi, vabbè, qua c'è la definizione di un programma, qua si parte molto da lontano, queste sono cose che quando faremo teoria degli algoritmi ci torneremo su questo. Cos'è un linguaggio di programmazione? Ragazzi, questo è veramente un ripasso quasi di fondamenti. Stack, heap, chiamata a funzione, sono cose che ho visto nei precedenti corsi. Ok, da oggi noi partiamo da qua. Tradurre programmi. C'è comunque un ripasso, perché mi serve per spiegarvi il nuovo strumento, sapete che un programma lo scrive il programmatore in un linguaggio che è detto di programmazione. Questo linguaggio di programmazione non è un linguaggio che parla la macchina, ovviamente no, la macchina parla linguaggio binario, quindi noi umani non scriviamo in linguaggio binario, anche se i primi programmatori scrivevano in linguaggi molto molto vicini alla macchina, proprio linguaggio macchina. Noi no, perché ha stato tanto tempo, adesso i programmi sono diventati molto più complessi e ci sono tutti questi strumenti, cioè compilatori di interpreti, che consentono ai programmatori di disinteressarsi dai livelli di dettaglio più bassi. Quindi a me non interessa, per esempio, di mettere una variabile in un certo indirizzo di memoria, così che poi lì il computer, il calcolatore della CPU lo va a prelevare, lo passa attraverso il basso, a me che me ne frega di queste cose. Noi siamo programmatori di un livello un po' più alto, cioè ci interessiamo a problematiche di più alto livello, come gli algoritmi, come i problemi complessi. Quindi compilatori ed interpreti sono due modi diversi sostanzialmente di fare questa cosa. Il compilatore traduce quello che voi scrivete, quello che noi scriviamo, in linguaggio macchina, lo traduce una volta, una tantum, è molto efficiente, perché chiaramente il programma, una volta che viene tradotto, viene impacchettato in un eseguibile. L'eseguibile, se voi l'aprite, con un programma ad hoc, vedete il linguaggio macchina, le istruzioni per quel calcolatore. Questo significa anche che un programma compilato, siccome è tradotto nel linguaggio macchina di quella macchina dove io mi trovo, se di quella macchina, per quel sistema operativo, per quell'architettura, quello eseguibile, non è detto che sia compatibile con tutti quanti i sistemi, anzi, non lo è. Se io compilo un programma per Windows a 32 bit, magari Windows, che ne so, Windows XP, sì, è vero che Windows sono molto attenti alla retrocompatibilità, quindi probabilmente viene eseguito anche da Windows 10, però non è detto, specialmente se io compilo a 64 bit, non è detto che venga eseguito su un'architettura a 32 bit, ma ovviamente non viene eseguito, se io do un eseguibile Windows ad un Linux, ad un macOS, ovviamente sapete già. che non viene eseguito. Perché? Perché contiene linguaggio macchina, specifico per quella macchina, per quel sistema operativo. Perché ci sono chiamati al sistema operativo, un programma tipicamente mostra delle cose a schermo, anche se dovesse mostrare solo la riga nera, lo schermo nero, quando voi facevate esercizi con lo schermo nero lampeggiante, si chiama console dei comandi, quella non è unica, è specifica per ogni sistema operativo. Quindi, quando voi compilate il programma, ci sono anche le istruzioni per dialogare con il sistema operativo, apri la console dei comandi, tra vedere questo a schermo, leggi da tastiera, attraverso il driver, attraverso il sistema operativo. Quindi, anche un programma molto semplice come un Hello World, racchiude in sé già tutte queste cose. Mi scusi, non si vedono le diapositive. Ah, me lo dite adesso. Va bene. Cosa vedete in questo momento? Vediamo solo la sua faccia. Ok. Avete ragione. È saltata la condivisione dello schema che io avevo fatto, però probabilmente è saltata nel momento in cui ho giocarellato con il proiettore. Adesso vedete? Sì. Benissimo. Ok. Grazie per avermelo detto. Prossima volta, lo dite prima. Comunque, io non è che ho parlato di quali slide, anzi, quello che ho detto quasi non è tutto quello, anzi, sicuramente non è tutto quello che c'è in questa slide, quindi, non abbiamo fatto ancora alcun danno. Benissimo, grazie. Ok, quindi, questo è il compilatore, l'interprete invece è completamente diverso. Beh, questo è il compilatore, ormai quello che ho detto, praticamente, quello che trovate in questi slide, è comunque questa una ricapitolazione di corsi precedenti. Il compilatore, per tradurre linguaggio di programmazione in linguaggio macchina, fa un sacco di cose. Deve controllare la correttezza sintattica, l'analisi lessicale, cioè deve capire che voi, quando scrivete una riga di codice, intendete che quello è proprio un for, intendete che quello, for è parola chiave, int è la dichiarazione, definizione di una variabile di ciclo, che si chiama così, che viene inizializzata così, quindi c'è la comprensione, l'analisi lessicale, la comprensione, l'analisi lessicale, controllo sintattico e l'analisi semantica, è la comprensione di quello avete scritto, cioè capire che cosa intendeva scrivere il programmatore. E se non si capisce, errore, errore di compilazione. Non ho capito quello che intendi dire qua, o perché hai sbagliato a mettere un punto in virgola, ok, capita, o perché proprio, cioè non ho proprio capito, magari non è un errore sintattico, è un errore un po' più di logica, cioè hai usato una variabile che però io non ritrovo, quindi tu pensavi che esistesse, ma non l'hai mai definita, è diverso da sintassi questo, non è un errore sintattico questo, è un errore semantico, stai usando una cosa che non hai dichiarato prima, oppure magari l'hai dichiarato in un posto che non è quello giusto. Bene. Poi, dopo di questo, il compilatore deve ottimizzare il codice, perché quello che scriviamo, ragazzi, qui c'è la vera differenza, il vero motivo per cui dicevo l'altra volta che oggi non si programma più in assembly, perché c'è questo tizio qua che si chiama ottimizzatore. Cosa fa l'ottimizzatore? Noi scriviamo un codice, l'ottimizzatore lo traduce in un altro codice, un codice ottimizzato in cui, per esempio, supponiamo che noi non siamo dei, ragazzi, non è questione di essere bravi programmatori, ma può capitare che quello che noi scriviamo lo scriviamo per funzionare in tutti i casi possibili. Però il compilatore si accorge che alcune parti del programma non verranno eseguite, oppure verranno eseguite meno spesso, altre verranno eseguite più spesso. Per esempio, una variabile di ciclo, è probabile che una variabile di ciclo venga acceduta molto più spesso di quello che sta fuori dal ciclo. Per definizione, è una variabile di ciclo. E allora il compilatore cerca di capire ok, questa è una variabile di ciclo, sai che faccio? La metto in una memoria del calcolatore, una cache per esempio, o un registro addirittura. Il registro è la memoria più vicina al calcolatore. Più vicino è il dato al calcolatore, è più veloce il trasferimento del dato, anzi, non c'è nessun trasferimento. Se il dato sta nel registro della CPU, non è necessario trasferirlo dalla memoria al registro, sta già lì. Quindi una variabile di ciclo che sta già nel registro, si salta il trasferimento. E quindi si salta, va più veloce ragazzi, perché ogni operazione è un ciclo della CPU. Devo trasferirlo alla memoria, dalla cache, dalla cache, registro, registro, sei pronto? Bene. Altro registro, per esempio, una somma di due numeri, sono due perandi, a meno due registri per quest'operazione. Il computatore cerca un po' di prevedere queste situazioni e fa queste ottimizzazioni. E ci riesce così bene che è meglio di scriverlo in assembly. E questa è la novità dell'ultimo decennio. Non conviene ottimizzare noi umani in assembly, cosa che si faceva, anche nei videogiochi A di qualche anno fa, c'era comunque una componente del team, parlo di grandi team, parlo di A, non certo piccoli team di sviluppo, che si occupava, c'era un team che sviluppava in C++ perché si capisce quello che uno fa in C++ in assembly. Capitemi che non è così facile capire quello che uno sta facendo. E le routine più esose, che ne so, magari c'era qualcosa che faceva rallentare il frame rate, si andava a codice macchina per ottimizzare ulteriormente quella routine, in maniera tale che il gioco, lì dove c'era un collo di bottiglia, andasse più fluido. Adesso i compilatori sono così efficienti che anche se ci provano a farlo i programmatori a scendere a livello macchina e ottimizzare, non ottengono un risultato migliore di quello del compilatore. Significa che hanno spremuto tutto quello che c'era da spremere così come il compilatore e quindi tanto vale non farlo. Quindi sta scemando sempre di più oggigiorno la necessità di coprogrammare in assembly. Persino le lavatrici, per dire un esempio, cioè i sistemi che sono sì computerizzati, ma non è che c'erano tutta questa potenza di calcolo, hanno una scheda integrata, uno pensa sicuramente sono programmati in linguaggio assembly o in linguaggio macchina specifico di quel processore, mini processore che sta sulla lavatrice e invece sono programmati in C. Quindi tutti i dispositivi che voi vedete anche a casa, quelli più stupidi, il termostato smart, la lavatrice, l'asciugatrice, il forno, il microonde, sono programmati in C oggi. Una volta non era così. Quindi questo perché abbiamo dei compilatori eccezionali. Dopo il compilatore però lo vediamo meglio quando parliamo proprio di traduzione del programma, ci sarà anche un altro attore che si chiama collegatore, però questo lo vediamo dopo perché il collegatore è uno strumento del sistema operativo, lo mette a disposizione, è uno strumento che dialoga con il sistema operativo perché deve andare a prendere tutte le librerie sia quelle che necessite del programma sia quelle del sistema operativo per far sì che ci sia tutto quello che serve per l'esecuzione. L'interprete è un'invenzione diciamo di due decenni fa ed è un modo per distribuire lo stesso codice su tutte le piattaforme davvero in maniera trasparente perché il codice non viene compilato in linguaggio macchina, c'è un linguaggio intermedio questo linguaggio intermedio è poi dato in pasto ad una macchina virtuale questa macchina virtuale lo traduce in real time il linguaggio macchina quindi basta che io installo questa macchina virtuale per esempio Java Java Virtual Machine o Python o anche C Sharp anche C Sharp ha una macchina virtuale tutti i linguaggi interpretati hanno una macchina virtuale questa macchina virtuale è in costante esecuzione e quando si vede arrivare un programma scritto non in linguaggio macchina compilato in un linguaggio comprensibile alla macchina virtuale la macchina virtuale lo trasforma in real time in linguaggio macchina questo che significa? che è possibile è possibile che una stessa istruzione magari dentro un ciclo se ci vanno una seconda volta venga tradotta una seconda volta in linguaggio macchina in real time questo è un'inefficienza perché è la stessa riga non conveniva tradurla una tantum come fa il compilatore? in effetti gli interpreti moderni anche qui la storia sta cambiando io dieci anni fa vi avrei detto gli interpreti fanno schifo sono lenti molto più lenti dei compilatori ovviamente perché hanno l'handicap di dover tradurre in tempo reale ma oggi anche gli interpreti stanno facendo passi al gigante ed è possibile non tutti i programmi alcuni programmi che anche se sono interpretati la loro velocità di esecuzione tramite interpreti molto complessi che non traducono la stessa riga più volte ma fanno una sorta di predizione capiscono che quella è una riga di un ciclo la traducono una volta basta non sono scemi erano scemi una volta e sono veloci a volte sono veloci non dico quanto i compilati ma i programmi interpretati a volte a volte non si nota la differenza a volte che significa programmi non di grande calcolo un gioco la differenza si nota perché stiamo parlando del top della complessità computazionale così come una simulazione una simulazione ingegneristica una simulazione a elementi finiti ne so di un edificio un terremoto fisica simulazioni che si fanno nei laboratori di questa università e di tutte le altre di ingegneria quindi cose complesse ovviamente si nota ancora la differenza cose meno complesse che ne so un gioco come Super Mario per esempio potrebbe non notarsi questa differenza potrebbe tranquillamente un gioco come Super Mario essere programmato in Java e non vedere tutta questa differenza rispetto a una programmazione in un linguaggio compilato ok noi però in questo corso io vi insegno a usare una libreria Qt e vi do dei progetti che possono avere anche una certa complessità perché perché utilizzano tecniche di intelligenza artificiale tecniche di grafi sono cose che invece sì che sono complesse quindi lì è necessario usare un linguaggio compilato e quindi quello che vi spiego adesso è la traduzione di un programma per programmi scritti con linguaggi compilati dovrebbe essere un ripasso però ci serve per introdurre l'argomento di oggi quindi partiamo dall'hello world per quindi il vostro hello world se vi ricordate era int main chout hello world era questo include iostream giusto spero non using in a misspace std forse sì poi vi spiego perché non dovete farlo comunque vabbè era quello questo hello world lo chiamiamo l'hello world delle librerie cioè questo è un programma che vuole usare una libreria e quindi come faccio io a tradurre un programma che vuole usare una libreria esterna quindi non è l'hello world di fondamenti questo è l'hello world di chi sa come funzionano le librerie perché noi in questo corso facciamo uso di librerie se usiamo i grafi facciamo uso della libreria dei grafi se usiamo Qt per le interfacce grafiche sicuramente lo userete usiamo Qt addirittura io ho usato una libreria di elaborazione di immagini opencv opencv perché in pacman ho dovuto fare alcune cose pacman lo faremo in classe quest'anno perché è molto challenging molto didatticamente molto molto valido come applicativo e quindi dobbiamo capire come funzionano i programmi che usano le librerie allora quindi io scrivo un programma hello world devo includere l'header della libreria perché che devo sapere come si chiamano le funzioni e le strutture dati di quella libreria questo sta scritto in un header quindi chiunque mette a disposizione una libreria che sia open source o anche che non sia open source cioè anche la libreria che mette a disposizione l'azienda più closed di tutte comunque gli header me li dà e non è vero che open source significa ho tutti i codici non open source non ho i codici i codici bisogna averli quali però quelli degli header sicuramente perché lì c'è scritto come si chiamano queste funzioni cosa cioè l'header risponde alla domanda cosa cosa c'è in questa libreria c'è una funzione di esplorazione di un grafo c'è cosa che faremo in questo corso c'è una funzione di disegno per esempio per disegnare i bottoni i pulsanti di un'applicazione grafica ci sono tutte queste cose quindi ho bisogno della classe pulsante della classe grafo ho bisogno di classi di funzioni di procedure e quindi stanno nel header nel mio codice io richiamo ovviamente le funzioni di quella libreria qui sto usando il namespace perché le librerie non tutte alcune hanno il namespace cos'è il namespace è una scatola di nomi che una volta aperta mi dà accesso a cosa c'è dentro cioè se io scrivo il nome della libreria due punti due punti l'ambiente di sviluppo risponde alla domanda cosa c'è in quella libreria cioè l'ambiente di sviluppo dovrebbe vediamo se riesco a dimostrarvelo senza far tremare troppe cose io vado adesso ad aprire qualcosa in opencv opencv è una libreria che usiamo alla magistrale per l'elaborazione di immagini digitali per esempio adesso non guardate quello che è scritto qua aspetto che si carichi l'ambiente di sviluppo ok quando su tutto si colora è caricato se io dico libreria opencv due punti due punti l'ambiente di sviluppo mi dice ecco cosa c'è dentro la libreria opencv quindi è una scatola è una scatola che adesso io ho aperto ovviamente ci sono migliaia di cose però per esempio io inizio a scrivere e me le completa per esempio dico immagine im decode quindi decodifica un'immagine im read legge un'immagine im show mostra un'immagine im write scrive un'immagine ecco che senza documentazione senza un insegnante che mi dice cosa dove stanno le cose solo perché io ho aperto una scatola l'ambiente di sviluppo mi dice cosa c'è in quella scatola ok quindi i namespace servono a raggruppare cose se invece non ci fosse stato il namespace vivremo in uno spazio in cui tutti dicono tutto ci sta l'imm read di opencv magari ci sta l'imm read di un'altra libreria cioè tutti dicono tutto significa che ci sono conflitti di nomi quindi i namespace servono a risolvere conflitti di nomi questi sono le funzioni di opencv poi ci sarà un'altra libreria che magari usa le stesse funzioni le stesse strutture dati pensate alla struttura dati matrice mat in inglese mat ae sta dappertutto ci sta a mettere opencv sicuramente ci sarà a mettere io penso che tutte le librerie scientifiche hanno una classe matrice ma non tutte sono uguali la classe matrice ognuno la implementa a modo suo ognuno ha le funzioni che ha il namespace serve a dire sta qua dentro e allora veniamo al punto perché vi ho detto di non usare la ricitura using namespace std ve lo chiedo a voi online a voi in presenza generalizzate questa cosa che succederebbe se noi scrivessimo all'inizio del nostro file using namespace cv using namespace altra libreria using namespace altra libreria per tutte le librerie che usiamo cosa succederebbe ogni using significa apri la scatola quindi è uguale a prima se io apro tutte le scatole rimetto tutto quanto nella stessa stanza ci si confonde mamma mia ci si confonde e non ho risolto niente peggio se voi lo using namespace lo mettete in un header ah è l'header probabilmente viene incluso da chissà quante componenti del programma e quindi tutte le componenti del programma includendo quell'header dove voi scrivete using quelle componenti pensavano di usare la struttura tal dei tali adesso che voi ci avete messo using il vostro using si sovrappone al loro using se hanno usato lo using perché c'è una gerarchia di using l'ultimo è quello che vince quindi è un problema enorme il vostro using ha creato problemi ad un componente che prima stava funzionando magari siete in un gruppo di progetto un progetto di gruppo magari in ambito industriale e c'è una una divisione diversa nel vostro dipartimento che ha fatto una cosa e deve essere unita a quello che avete fatto voi se voi e gli altri fanno così non funziona perché gli altri magari dovevano usare le matrici di una libreria voi dovete usare le matrici di un'altra libreria voi tutte e due fate using il programma non sa meglio che matrici devo usare quello o quell'altro o vi dà un errore il compilatore o peggio lascia passare lascia passare significa voi pensate di usare quella matrice ma state usate le matrici dell'altra dell'altro using tutto questo per dire niente using ok ci sono cose io capisco che il c++ è un linguaggio molto complicato perché c'è tutto cioè ci sono più cose di quelle che servono questo significa anche che uno si può fare male anzi ci sono dei meme proprio su questo cioè con c++ uno si può sparare sui piedi riassumi in poche righe un linguaggio il c++ è un linguaggio che ti consente di fare tutto ma con cui ti spari sui piedi perché per esempio ci sono queste cose che uno con un po' di esperienza non si fanno ma all'inizio uno dice ok ci sta quindi perché non lo devo usare lo using in realtà ha un altro scopo però non voglio fare una lezione su lo using lo scopo non è quello di dire using namespace lo scopo è quello di usare alias per nomi di variabili però scusate se ve l'ho detto non è non è non è questo lo scopo della lezione di oggi quindi lo using è utile per altre cose ok quindi siamo ancora all'abc cioè siamo nell'editor infatti l'abbiamo visto nell'editor e abbiamo scritto il nostro codice abbiamo invocato una funzione fu è un nome generico per dire una funzione che sta dentro la libreria alib che significa una libreria non sapevo come chiamarla in maniera generica e questa funzione mi aspetto che sia dichiarata in quella in quel header allora nell'editor quali sono i controlli che vengono fatti in realtà non c'è ancora un flusso di controllo tipicamente l'editor però vi sottolina le cose sbagliate quindi c'è comunque un motore negli editor moderni che vi dice guarda forse poi è sbagliato però ancora non è partita la compilazione ok l'unica cosa bisogna stare attenti quando noi scriviamo un programma che se il programma è eseguibile deve sempre avere un punto di ingresso quindi tutti i programmi eseguibili hanno un main e badate che ne hanno uno solo non è che io posso fare un programma eseguibile che c'ha due main no il main è uno solo e questo non è soltanto in C++ in tutti i linguaggi di programmazione anche in quelli interpretati anche in Java anche in Python c'è il main il main significa tu un sistema operativo che questo programma lo esegui parti da qui è un punto di partenza tutto qua e opzionalmente puoi ricevere in ingresso dei parametri questo vale in tutti i linguaggi di programmazione cioè parametri tipicamente da riga di comando io invoco un programma e gli passo delle opzioni non so se ve l'hanno spiegato ve l'hanno spiegato cosa sono questi parametri sì no no non è importante in questo corso però ve lo dico a volo questo è il numero di parametri e questo è l'array dei parametri passati quindi che ne so quando voi state in quando voi usate la se l'avete mai usata la console dei comandi che sia qui o in linux o no non è questo è è in equivalente quando io dico cd punto punto che significa cambia directory change directory e vai alla directory che sta sopra punto punto significa vai indietro punto punto è un argomento dell'eseguibile cd cioè cd è un eseguibile è un programma che qualcuno ha scritto che prende l'ingresso dei parametri e infatti se io gli dico help che non è così com'è qua un altro programma con per esempio il compilatore stesso gcc è un compilatore gcc aiutami questi sono tutti i possibili parametri che si possono dare al compilatore quindi opzione valore del oppure parametro valore del parametro quindi quando io adesso scriverò durante questa lezione un comando per compilare il programma dovrò dire eseguibile GNU si compile l'eseguibile del compilatore C della suite GNU compila questo questo e quest'altro facendo così eccola quindi parlo all'eseguibile fornendo dei parametri questo è possibile perché i programmi eseguibili prendono in ingresso gli argomenti quindi gli argomenti dati a linea di comando vengono passati attraverso opzionale ecco perché qua non c'è vengono passati attraverso questi argomenti voi dite ma se non c'è il main posso compilarlo il mio programma sì ma non è un programma o meglio non è un programma eseguibile è una libreria le librerie non hanno main perché non hanno main perché librerie non hanno un punto di ingresso non è un flusso di esecuzione la libreria è una collezione di funzioni e strutture dati che possono essere utilizzate da un programma eseguibile quindi la libreria non ha un main se noi vediamo il main già sappiamo che quella è un programma eseguibile bene prossimo passo prossimo passo entra in gioco il preprocessore il preprocessore è deputato alla lo spiego meglio con un editor di testo perché è un editor di testo avete tutti quanti mai usato il notepad un notepad word avete usato word certo che avete usato word che ne so non voglio fare non voglio fare insomma danni se io vi dico search and replace trova e sostituisci è una funzione che avete usato immagina uno che sta scrivendo una tesi un documento di 100 pagine si accorge che la parola che sta sempre usando non è quella giusta la devi sostituire ma che fa si mette a cercarle manualmente pagina per pagina e lo fa una volta si faceva così una volta proprio una volta una volta una volta quando non c'era trova e sostituisci ma adesso si dice trova e sostituisci bene se io vi dicessi che quando voi fate include file.h voi dite include include alib.h per esempio include io stream pure tutti gli include che fate ogni include è un trova e sostituisci cosa trova trova il file che state includendo quindi lo va a cercare dove lo cerca lo cerca nella cartella dove ci sono i sorgenti se lo trova oppure lo cerca nei percorsi predefiniti del compilatore e se non lo trova vi dice che non lo trova ovviamente se lo trova però cosa fa? prende il contenuto di quel file proprio tutto prende proprio il testo lo prende e lo sostituisce al posto di include quindi questo è proprio trova e sostituisci trova il file prende il contenuto e piazzalo qua dentro questo significa che quando noi scriviamo un programma semplice quando noi scriviamo include iostream l'hello world di fondamenti include iostream int main cout hello world quelli include iostream fa sì che il nostro programma di poche righe in realtà dove per processore diventa gigantesco perché diventa gigantesco perché perché iostream è un file è un file con tanto tanto testo tanta programmazione cerchiamolo vediamo se lo troviamo eh visual studio microsoft visual studio questo qua questo qua non lo so devo trovare una cartella dove ci sono tutte le cose non è questa sarà questa sarà qua microsoft visual studio ok qua ci sono tante cose vc sarebbe il compilatore include include è una cartella dove lui va a cercare tutti gli include ma per caso ci sta anche iostream io non lo so non è che l'ho controllato stamattina eccolo qua iostream che c'è dentro iostream oh dentro iostream c'è del codice c'è del codice anche se se me l'ho fuscato è codice c++ ed è un codice che include i stream quindi dobbiamo andare se uno include include un file e a sua volta c'è un altro include il preprocessore deve andare sempre alla ricerca di tutti questi file da includere quindi istream troveremo prima o poi del codice dove c'è qualcosa di comprensibile per noi ovviamente non è facile qua non ci sono include no include o stream ok però questo è istream quindi deve contenere per forza definizioni di cose e vediamo se riesco a trovare una cosa che dovrebbe fare effetto wow però non è detto che la riesco a trovare ok faccio prima a fare così però questo è di stream quindi in realtà ha ragione voglio andare in o stream che comunque viene incluso o stream cosa sto cercando secondo voi eh cout bravissimi e cos'è cout quindi avete visto non riesco a trovare cout però ho detto match world find all in open documents ah no stavo qua stavo in stream ho cercato troppo lontano extern o stream cout virgola un'altra cosa che cos'è questa riga così complessa lasciamo stare questa roba qua extern significa io sto per dichiararti una variabile siccome sto fuori da qualunque contesto questa è una variabile globale ma non è una variabile di tipo int di tipo double è una variabile di tipo o stream quindi questo è uno oggetto globale della classe o stream extern significa che questa è una dichiarazione cioè non è questo momento in cui creo davvero ma sto promettendo che verrà creato probabilmente in qualche altro punto in qualche altro file probabilmente sorgente quindi un cpp perché quando le variabili si dichiarano extern in un header tipicamente poi stanno in cpp definite e perché questa cosa perché open source non open source open source significherebbe che questa da qualche parte la devo trovare definita non open source significa che esiste questa è una promessa di esistenza ma magari sta in un codice offuscato cos'è il codice offuscato? è un codice oggetto c'è un codice che non posso leggere però abbiamo scoperto che il nostro caro cout non è altro che una variabile globale istanza dell'oggetto della classe istanza oggetto della classe o stream dichiarato nell'header nel header io stream definito non lo so è il compilatore queste sono librerie del compilatore il compilatore forse l'ha definito in un file oggetto perché questo è un compilatore per windows quindi o stream chiaramente flussi input output video ha a che fare col sistema operativo questo non è un codice che può andare bene per linux oppure c'è il viso studio per linux e per bank OS avranno un codice diverso magari non questo header l'header sarà lo stesso forse ma sicuramente la parte di oggetto sarà diversa vedete quanta roba c'è in così poco avevate mai visto queste cose quindi a me piace che non ci sia niente di oscuro tra di noi cioè anche se il codice è molto molto piccolo molto ridotto quasi questo è quasi nell'oward c'è soltanto la chiamata a funzione che sta in un header eppure guardate quante cose nuove che stiamo imparando oggi quindi abbiamo scoperto che l'include file è un cerco e sostituisci e poi ci sono i define i define sono la stessa cosa quando io dico avete mai usato i define forse per definire la lunghezza di un array define max dim 100 avete fatto? che cosa fa secondo voi? se l'include trova e sostituisci cosa fa il define? uguale trova e sostituisci va a cercare nel codice tutte le volte che voi avete scritto max dim max size e al posto di quello ci mette il valore di max size 100 quindi il preprocessore è un elaboratore di testi una specie di notepad fa trova e sostituisci sempre ha un'ulteriore complessità che si chiama compilazione condizionale cioè che dice se è attiva una variabile di preprocessore debug io entro in questo blocco e faccio ricerca e sostituisci che sono in questo blocco altrimenti no quindi c'è un pochettino di condizionamento non è soltanto prendi sostituisci prendi sostituisci se vale questo prendi sostituisci pure questo può succedere per esempio gli ifdef tipici che si usano se sono su windows ifdef una certa variabile di preprocessore che è definita per windows se sono su windows faccio questo se sono su linux faccio quest'altro se sono su macOS faccio quest'altro ancora e penso ad esempio alle librerie grafiche che devono interfacciarsi con tutti i sistemi operativi loro sì che devono chiedersi a volte bisogna chiedersi se sto qui se sto lì se sto su linux eccetera ok quindi testo in ingresso preprocessore in uscita testo testo però è un'espansione quindi per esempio in questo caso cosa c'è andiamo a vedere la nostra libreria la nostra libreria è questa sono tre file c'è un un utilizzatore l'utilizzatore è client adesso qua non c'è il ciclo while ma che ce ne frega non è quello il punto c'è l'include di alib c'è un int main e c'è la chiamata funzione foo non ci sono i namespace ma non è quello il problema ve l'ho spiegato comunque che si possono usare in questo caso non è stato usato cosa c'è in alib ma in alib c'è una semplice dichiarazione di funzione cioè qui c'è scritto ok esiste una funzione che si chiama foo che non prende nessun parametro in ingresso e non restituisce nessun parametro in uscita punto e virgola significa che questa è una dichiarazione cioè io ti dico che esiste come l'externo della variabile ma non so che c'è scritto in effetti l'implementazione sta nel cpp questo è l'offuscamento non tutti i linguaggi supportano l'offuscamento non così a meno bene in cpp è proprio possibile dire l'header ha le dichiarazioni il cpp ha le implementazioni ora se io sono open source ti do il cpp se non sono open source ti darò i file di libreria punto lib dll ora ci arriviamo in questo caso però supponiamo che la libreria ci abbiamo open source e quindi dentro il cpp ci abbiamo siccome questo è un hello world è l'hello world da una libreria questo è hello from fu ciao dalla libreria questo è il senso di questo hello world e notate che l'include dell'iostream l'abbiamo messo qui dentro non dentro il client cioè il main non sa cosa fa questo fu poi che questo fu effettivamente faccia una stampa a schermo utilizzando la libreria iostream non è di competenza del main questa è un'altra cosa differenza rispetto ai precedenti corsi gli include fateli spesso sempre finché potete include delle librerie grosse nei cpp perché che gliene frega a client includere tutte le librerie del mondo lui non sa davvero perché voi usate quella libreria anzi voi potreste dentro questo fu fare tutta una serie di altre cose che non è stampa a schermo ok bene ma siccome l'header contiene solo questo non è quindi una sorpresa che il nostro per processore prenda il contenuto di alib che è una riga e la metta al posto di include questo è dopo il per processore il nostro codice è stato espanso in questo caso non è espanso nel senso di più grande ma in generale si perché non include non ci sta una riga di codice in generale chiaro fino adesso? bene testo prima avevamo testo dopo abbiamo arriviamo finalmente al compilatore il compilatore deve tradurre il linguaggio macchina l'abbiamo già detto prende il codice sorgente scritto in un linguaggio umanamente intelligibile e lo traduce in linguaggio macchina linguaggio macchina uni e zeri si poi questo linguaggio macchina deve essere ovviamente salvato in un file cioè ogni passo significa salvare su disco il file in quella versione il compilato viene salvato in un file cosiddetto oggetto ok quindi obg se è il compilatore windows punto o se è il compilatore linux gnu se è il compilatore mac os perché c'è questa differenza tra windows e tutti gli altri? perché linux è un sistema che aderisce allo standard unix linux non è un sistema operativo unix ma aderisce allo standard posix che è tipico di tutti i sistemi unix quindi possiamo dire che linux parla il linguaggio almeno nelle convenzioni dei sistemi unix ma non è unix mac os invece è un sistema unix mac os x quella x finale sta per unix mac os è uno dei pochi sistemi unix oggi esistenti un altro è solaris per esempio i sistemi unix sono i sistemi operativi più più anziani diciamo i primi sistemi operativi non i primi però comunque i sistemi operativi che hanno fatto la storia prima che ci fosse windows prima che ci fosse linux tra l'altro linux è nato proprio come implementazione linux torbals ha implementato linux perché ovviamente non gli piaceva che i sistemi unix fossero chiusi a pagamento commercialmente insomma avevano un valore commerciale lui voleva una cosa libera libera dove tutta la comunità potesse partecipare quindi tutto il mondo oggi scrive il kernel di linux oggi è scritto da tutti i programmatori che aderiscono al programma ma non è una decisione tipo io vengo pagato in cambio non avete niente in cambio è una collaborazione planetaria un po' come wikipedia ci sono pochi casi al mondo fortunati in cui la collaborazione gratuita di persone in tutto il mondo fornisce uno strumento all'avanguardia wikipedia non in italiano wikipedia in versione inglese è uno strumento all'avanguardia io trovo in wikipedia n inglese contenuti di qualità universitaria e oltre in italiano tutta un'altra storia e il kernel di linux è scritto è scritto da programmatori con un'esperienza davvero eccezionale e infatti funziona direi abbastanza bene se non altro perché il vostro cuore pulsante voi che avete chi di voi ha cellulari con android il cuore pulsante è sicuramente un kernel linux non è vero per chi ha l'apple l'iphone non ha un kernel linux ha sistema operativo ios che è basato su kernel che fa girare anche macOS è un kernel unix proprietario dell'apple non è kernel linux però siccome hanno le stesse convenzioni a volte è possibile con eseguibile per linux funzioni anche su macOS non sempre succede ma è possibile perché parlano un po' la stessa lingua che poi sotto siano implementati diversamente ma la lingua è comune windows invece parla una lingua completamente diversa e infatti prima distinzione e da qui saranno tutte distinzioni windows obj tutti gli altri o ok quindi il compilato è linguaggio macchina quindi questo codice viene tradotto nel linguaggio macchina problema se io traduco il linguaggio macchina significa che è il momento di dire al calcolatore davvero come deve fare le cose finché testo di programmazione siamo ad un livello alto qui il livello è proprio prendi la variabile metti nel registro cioè sono cose concrete e ma io a questo punto questa funzione fu se io ce l'ho dichiarata non so cosa c'è dentro quella funzione fu cioè il compilatore non ha il compito di riempire tutti i buchi il compilatore ha solo il compito di predisporre il flusso di esecuzione del programma ma ci saranno dei punti in cui riferimenti a libreria per esempio riferimento alla libreria quando fate cout minore minore scusate sono specchiato rispetto a voi quando mandate in stampa qualcosa quel momento è un momento in cui usate l'operatore di stampa video sta avvenendo lì come anche qui un vuoto perché quello è il momento in cui si dialoga con una libreria di sistema operativo ma il compilatore non conosce il sistema operativo il compilatore non dialoga con il sistema operativo non è lui deputato a farlo quindi il compilatore quando si trova una funzione esterna sia esterna funzione che deve dialogare con il sistema operativo o una funzione di una libreria opencv qt per disegnare interfaccia o fu lascia uno spazio un vuoto adesso finalmente capiamo lo scopo del collegatore il collegatore deve riempire i vuoti quindi il file oggetto del compilatore è linguaggio macchina ma è linguaggio macchina non eseguibile perché perché ci sono i buchi è una groviera cosa c'è dentro c'è tutto quello che voi avete scritto ma tutte le cose che usate esternamente libreria io stream e altre librerie non c'è il collegatore quindi ha lo scopo di prendere tutto quello che manca e metterlo dentro riversarlo dentro l'eseguibile quindi cosa fa il collegatore linker combina le funzioni definite in altri file sorgenti o in librerie esterne quindi librerie statiche dinamiche ora facciamo questa distinzione e riempie i buchi dell'eseguibile allora se stiamo in un contesto di collegamento statico statico è esattamente quello che ho detto i buchi vanno riempiti totalmente mentre vedremo che nel collegamento dinamico i buchi verranno in realtà non verranno riempiti verrà aggiunta una piccola cosa che poi vi spiego collegamento statico librerie statiche devo avere la libreria cosa è la libreria statica ragazzi la libreria statica è una collezione di file oggetto quindi io ho adesso un file oggetto con dei buchi se adesso mi si dice di prendere le funzioni da altre librerie mi servono i compilati di quelle librerie cioè mi servono i file oggetto però siccome una libreria è complessa siete d'accordo con me non ci sarà un solo file oggetto ok questo è un caso in cui la nostra libreria ha un solo file oggetto poi la compileremo la nostra libreria statica ma in generale è più di uno ok pensate Qt io penso che abbia senza voler esagerare almeno più di 100.000 oggetti ho 100.000 oggetti dove li metto secondo voi voi cosa fate per mandare tanti file in un solo file al vostro amico di email mica li mettete per allegati mica mandate 100 file in allegato non ci credo che fate? eh? zippate? perfetto stessa cosa li mettete in un archivio e indovinate un po' qual è lo standard posis per archivio di libreria statica? punto A A sta per archive anzi il comando per creare una libreria che useremo fra poco si chiama AR AR sta per archivia quindi hai tanti file oggetto mettili in un unico file senza compressione non è zippato però è un archivio quindi se io ho una libreria statica potrei dearchiviarla decomprimerla anche se non c'è compressione e avrei tutta questa pletora di file oggetto quindi il povero il povero collegatore che deve fare deve piare sto file archivio o lib perché Windows si deve sempre distinguere lib certo uno dice lib è più carino lib libreria è ma libreria di che? questa è una libreria statica poi ci sta quella dinamica che fai? la chiami lib din e infatti la chiamano dll che sta per dynamic link library vabbè quindi abbiamo questa libreria il collegatore la spacchetta c'è tutti i file oggetto e va alla ricerca in questi file oggetto va alla ricerca di quello che manca nel vostro codice quindi avete bisogno della definizione della della funzione fu? scusate quando ho due ore io finisco un quarto d'ora prima non faccio la pausa in mezzo altrimenti perdiamo continuità del resto avremo sempre massimo due ore quindi faccio così eh adesso deve andare alla ricerca di questa funzione fu cioè noi qua la funzione fu sappiamo che esiste ma non sappiamo cosa fa dentro quindi qualcuno ci deve dare la libreria il file punto a della alib e il collegatore andrà alla ricerca del contenuto della funzione fu se lo trova lo mette dentro eccolo qua l'ha messo se non lo trova che cosa vi da? vi è mai successo un errore del genere? succede spesso quando si usano librerie ma se fate esercizi di fondamenti non succede non lo so vi è successo? linking error un errore del collegatore vi è successo? succede perché il collegatore non trova i simboli dice non trovo il simbolo che significa il simbolo? non trovo il nome della funzione cioè perché lui l'unico modo per trovare le cose è fare un matching tra nomi la funzione si chiama così ha questa firma? ok la vado a cercare nel punto O la trovo? se non la trovo cannot find cannot find symbol oppure undefined symbol errore del collegatore e ci si ferma questo può avvenire per due motivi o perché davvero non c'è e quindi voi non avete dato la libreria al vostro collegatore oppure l'avete data ma non è quella giusta non è la versione giusta oppure è compilata per un'architettura diversa gli avete dato quella 64 bit mentre voi state compilando 32 bit cioè c'è un mismatch di architettura deve essere tutto uguale c'è la libreria e questo è importante per i vostri progetti succede spesso all'inizio succede poi lo risolviamo che Qt vi dà errore di linking perché voi magari avete scaricato un Qt non compatibile sulla vostra architettura ok ora qual è il vantaggio di usare il collegamento statico che adesso l'eseguibile è completo completo significa che voi lo potete distribuire certo l'eseguibile Windows non lo potete distribuire a Linux e a macOS però grazie alla retrocompatibilità di Windows lo potete distribuire come io ho fatto tra l'altro io vi ho vi ho dato degli seguibili Linux Linux Windows qual è il vantaggio è questo la distribuzione è più agevole qual è lo svantaggio è che adesso essendo l'eseguibile pieno di cose riempite che significa cose riempite significa che se questa era un'interfaccia grafica che faceva tutti quei disegni necessari per Super Mario Bros o per giochi carini con tutta la grafica anche in 3D ora immaginate quanto codice ci sta dentro questo eseguibile ci sta tutto il codice necessario per quell'applicazione se l'applicazione è complessa il codice è tanto e quindi l'eseguibile è grosso molto molto grosso anche centinaia di megabyte non mi pare che abbiate mai visto o comunque raramente avete visto eseguibili di un gigabyte o di 200 megabyte non è una cosa che si fa quindi quando è che si usa il collegamento statico? quando la libreria che state usando è piccina ok? e quando non è piccina cosa si fa invece? vabbè chiaramente quindi collegamento statico il caricatore non fa nulla carica il programma nella memoria nella RAM e lì viene eseguito il programma stack ip la suddivisione del processo il programma diventa un processo e tutto va bene ma facciamo un passo indietro qual è l'alternativa al collegamento statico? l'alternativa è il collegamento dinamico cos'è il collegamento dinamico? il collegamento dinamico è un post porre il problema di avere i buchi nell'eseguibile quindi avevamo qua il buco cioè non so cosa c'è dentro questa funzione fu allora il collegatore dinamico il collegatore gli si dice guarda io voglio fare un collegamento dinamico quindi intanto ti dico dove sta la libreria dinamica poi vediamo cosa è la libreria dinamica e tu però non vai a prendere il codice e lo metti dentro come hai fatto prima non è copia e sostituisci come era qui qui pure era copia e sostituisci nel collegamento statico è prendi quello che c'è nella libreria che ti interessa e lo copi dentro l'eseguibile qui no qui è crea un riferimento cioè io ti dico già che la parte che ti interessa dove sta sta funzione fu è definita l'indirizzo tal dei tali della libreria dll quello che è così quello che verrà dopo e quello che verrà dopo è il caricatore sistema operativo addirittura saprà che quando si arriva a questa istruzione bisogna saltare ad un altro programma ho detto programma non libreria perché le librerie condivise o dinamiche ora spiego perché condivise sono programmi eseguibili e ve lo dimostro cerco di dimostrarlo ovviamente è un eseguibile mi servono eseguibili da qualche parte devo trovare un CD 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 OpenGL ok ld OpenGL non ld mi serve le dipendenze quello che volevo cercare di fare che ho cercato di fare anche l'anno scorso devo capire solo dove sta a che user local lib sta qua user lib ok forse sta qua gcc sta qua quello che voglio cercare di fare è prendere la libreria del c++ come è possibile la libreria del c++ dove ci stanno tutte le cose io stream i stream, file stream la stl quando voi usate tutti quelli include quelli corrispondono ad una libreria dinamica in realtà non statica ecco perché i vostri eseguibili di fondamenti di informatica non sono grossi 10 megabyte 100 megabyte sono grossi pochi kilobyte perché lì viene fatto un collegamento dinamico con le librerie del c++ perché il c++ è una specifica il compilatore conosce come si funziona ma non sa come è implementato l'implementazione sta nel sistema operativo tipicamente o nella suite del compilatore ma comunque da qualche parte in qualche libreria esterna io stavo cercando i percorsi di questa libreria esterna come la trovo se è un eseguibile forse è ldd ho sbagliato sì era ldd tanto che sto cercando la libreria del potrebbe essere questa per esempio o anche questa ecco eccola questa è la libreria del c perché il c++ si basa anche sul c so sta per shared object condivisa è come se fosse dll e windows come solito usa dll e i sistemi posix compliant usano usano so punto 6 dovrebbe essere una versione ok ora se io provo a eseguire questa libreria è una cosa strana esegui una libreria lui dovrebbe farlo dovrebbe l'ha eseguita ragazzi stable release version 2.19 addirittura pure chi l'ha creata copyright free software foundation perché questo è GNU della free software foundation compiled by GNU ragazzi questo è un cout cioè questo che vediamo è un codice cout che stampa queste informazioni dentro il main della libreria no scusate dentro il main dentro la libreria dll ho fatto confusione ho detto il main non c'è il main nella libreria però la libreria condivisa è un pezzo eseguibile c'è già tutto quello che serve quindi se io provo ad eseguirla cosa fa il sistema operativo inizia dalla prima istruzione e se la prima istruzione ha un senso la esegue e va avanti finché ha un senso non tutte le dll sono eseguibili per esempio quella del c++ non credo che sia eseguibile ci provo ma non credo ovviamente questo è un optional c'è un modo anche figo per dire ti do la libreria e sono pure eseguibile quindi ti do pure le informazioni se tu provi ad eseguirla ma non penso che quella del c++ sia eseguibile io ci provo dovrebbe crashare tipicamente questo succede che non è fatta per essere eseguita così d'amblè quando ho provato vabbè mi dice permission denied ma non è questo il problema forse non ho provato a metterla bene va bene comunque abbiamo dimostrato quello che volevo dimostrarvi che le librerie dinamiche possono anche essere eseguite torniamo a noi però che stiamo facendo stiamo dicendo che esiste un altro modo di usare le librerie ovvero modo dinamico cos'è il modo dinamico c'erano dei buchi nell'eseguibile li lasci però ci mette un riferimento cioè sai già che a tempo di esecuzione potrai andare a prendere a quell'indirizzo le istruzioni che ti servono a questo punto l'attore che si chiama caricatore loader fa un grosso lavoro mentre prima il caricatore semplicemente nella libreria statica prendeva tutto l'eseguibile 100 megabyte un gigabyte se non siamo attenti lo prende ragazzi tutto quanto e lo mette nella ram tutto ora forse cominciate a capire perché le librerie statiche vanno usate quando sono piccine perché se noi facciamo il linking statico con librerie grandi l'eseguibile sono 100 megabyte questi vanno nella ram e occupano 100 megabyte di sole istruzioni poi ci stanno tutta la ram occupata dall'esecuzione quindi alloga un array allora alloga quindi in più ha le istruzioni il programma è fatto di istruzioni stack tip area dati costanti area dati costanti e istruzioni le istruzioni stanno nel segmento del processo quindi se invece il linking è dinamico cosa sta davvero avvenendo le dipendenze esterne c'è scritto vengono risolte copiando le porzioni di codici interessate dalle librerie condivise sì e no se la libreria è usata solo da quel programma in alcuni contesti viene davvero copiato ma in realtà la cosa che avviene più spesso è la condivisione della libreria che significa la condivisione è chiaro secondo me qui quando io dico quando io prima ho fatto ldd ldd opengl è un'applicazione in 3d che sviluppiamo durante il corso non quest'anno dove disegniamo dei cubi fa parte di Qt ok è un eseguibile è un progetto che facciamo in classe è un eseguibile ldd serve per dare la lista delle dipendenze ora questa cosa forse la risoluzione è tale che purtroppo va a capo quindi ci sono delle andate a capo che rendono il tutto un po' più brutto da vedere però quello che sto dicendo è che queste sono la lista di dipendenze o ciascuna di queste è la libreria da cui dipende e poi c'è freccia dove si trova la libreria quindi per esempio scopro che ha bisogno questa applicazione di Qt 5 widgets sarà un modulo per disegnare qualcosa questa dipendenza è risolta andando nel file tal dei tali ma alcune di queste non c'è un file c'è un indirizzo e che indirizzo è quello secondo voi è un indirizzo del disco è un indirizzo della RAM è un indirizzo della RAM che significa un indirizzo della RAM che quella libreria è già nella RAM ecco il significato di condiviso e infatti anche quando troviamo un file se accanto troviamo anche l'indirizzo della RAM significa che quel file quella libreria è già caricata in RAM già sta risiedendo in RAM qual è il vantaggio di avere librerie che già risiedono in RAM che tanti programmi che le usano accedono a quella parte di libreria che ha interesse di interesse che sta già in RAM e la libreria è condivisa ecco il vero significato di librerie dinamiche è più corretto chiamarle condivise secondo il paradigma POSIX perché il vero scopo delle librerie dinamiche è di essere condivise tra i processi cioè la libreria del CI ma secondo voi posso mai io copiarla dentro il mio eseguibile staticamente o addirittura della RAM ogni volta che io carico un programma cioè vi pare mai che ogni programma che si carica in RAM gli viene copiato il codice per implementare tutte le cose del CI e del CI++ ma se fosse così quanti programmi sul sistema operativo usano CI e del CI++ beh su Linux tutti 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 i programmi tutti i programmi di Linux il kernel tutto è scritto in CI tutto i programmi quelli un po' più di alto livello sono scritti alcune volte in CI++ quindi significherebbe che la mia RAM non mi basterebbe io penso non mi basterebbero nemmeno i 16 gigabyte di RAM che ho non basterebbero perché ogni programma dovrebbe copiarsi tutta la libreria del CI e del CI++ questo per il CI e del CI++ figurati per le librerie grafiche Qt sono 500 mega di roba che fa? ogni programma si copia 500 mega di roba e no no quindi condivisione la libreria serve a tutti? ci serve a tutti? sì allora sta caricato là buono buono e tutti quelli che lo devono usare lo usano quindi cosa fa il caricatore? crea un riferimento tipicamente tra quello che è il buco e quello che è la parte di codice che serve che sta già in RAM questa è la novità la libreria condivisa sta già in RAM e quindi bisogna soltanto saltare quando il programma verrà eseguito quando si va in quella porzione di libreria si salta ad un'altra parte della RAM quindi stranamente mentre il processo vi ho detto un programma è un processo ben delimitato magari vi hanno detto è ben delimitato ci sono le istruzioni di quel programma lo stack l'IP l'area dati statici e globali punto e non si esce mai da quel programma in realtà si esce si esce quando si usa una libreria condivisa si salta ad un'altra porzione di RAM dove c'è la libreria condivisa e poi si ritorna all'istruzione del proprio programma ora capite perché si chiama SO SO sta per shared object e cosa fa il caricatore il caricatore a tempo di esecuzione oltre a creare questi riferimenti deve controllare che esistano queste librerie dinamiche condivise cioè deve controllare che siano accessibili e che succede quando non le trova sarà successo sicuramente per alcuni di voi che succede quando non trova una DLL si incavola o no ma si incavola il compilatore si incavola il collegatore o si incavola il sistema operativo il sistema operativo si incavola e vi dice anche voi che non siete programmatori capita cannot find DLL oh cacchio ma come faccio ve la cercate su internet scommetto sbagliatissimo sbagliatissimo ora lo capite perché è sbagliatissimo ditemelo voi perché è sbagliato cercare su internet perché le DLL sono programmi eseguibili e voi vi fidereste di scaricare di eseguibili un programma scaricato da un sito con i banner porno e tutte quelle cose che ci fanno capire che forse non è un sito molto molto diciamo credibile ve la sentireste voi a cuor leggero di eseguire codice di cliccare su un exe scaricato da uno di questi siti perché è quello che state facendo quando voi scaricate una DLL state cliccando se in eseguibile sconosciuto e quell'eseguibile sconosciuto potrebbe sì contenere il codice che cercavate e quindi il programma funziona e voi dite ah che bello scaricato una DLL giusta ma quella DLL potrebbe contenere altro codice che nel frattempo sta mandando a terzi quello che scrivete su tastiera vi sta spiando e quindi quando voi andate su facebook magari qualche volta vi chiederà il login perché che ne so avete cancellato la cache riscrivete la password oppure state su un altro sito scrivete username password oppure peggio i dati bancari tutte queste informazioni vanno a terzi e questo non è bello quindi non scaricate le DLL se le DLL mancano dovete rivolgervi a chi quell'applicazione l'ha distribuita oppure rischiate se un gioco non va perché manca le DLL è il problema di chi quel gioco l'ha fatto deve distribuirlo con tutte le DLL necessarie oppure può essere che magari a me è successo che ho ho cercato di seguire i giochi dei ragazzi che mi hanno distribuito come seguibile e mi diceva che mancava la DLL ora però io ho cercato quella DLL che cos'è? ho scoperto che la DLL relativa a Microsoft Visual Cire Distributable 2015 cioè sono le librerie del C++ di Visual Studio 2015 2019 che io non avevo le ho scaricate dal sito della Microsoft allora sì ho scaricato il pacchetto di librerie dal sito Microsoft e ha funzionato ma c'era su Google tra i risultati anche uno di questi siti che è eccola la DLL che ti serve ti è te la do io no l'ho scaricata da Microsoft ok bene eh capirato l'avete scaricata le librerie dalle siti Sozzi eh Sozzi nel senso informatico del termine che insieme a quelle librerie vi danno potrebbero anche infettarvi parliamo di virus quindi bene eh avete capito quindi lo scopo della libreria dinamica condivisa lo scopo è quello di condividere il codice della libreria eh su tutti i programmi in maniera orizzontale a tutti i programmi presenti quindi ragazzi la ricapitolazione eh viene da sé librerie statiche sono archivi il vantaggio è che non è necessario avere le librerie per eseguire il programma perché il programma contiene tutto quello che è necessario ma il programma è anche più grosso quindi ci vuole più tempo per caricarlo e occupa tanta RAM soprattutto se le librerie sono grandi eh ed è anche più lenta la traduzione perché è più lenta perché il compilatore collegatore deve copiare tutte queste porzioni di codice e ci mette più tempo e quindi più tempo a compilare e linkare il programma le librerie condivise invece sono frammenti di codici eseguibili quindi sono eseguibili eh nei sistemi POSIX compliant si chiamano .so macOS anche se Unix ha voluto differenziarsi chiamandolo dilib e windows dll però mentre dilib è molto parente di so internamente meccanicamente parlando le dll di windows sono completamente diverse anche qui pensate vi dico solo una differenza il collegatore nel caso delle librerie dinamiche vuole la libreria dinamica ci siamo non è una sorpresa nel caso delle librerie statiche vuole la libreria statica ok ma se siamo su windows il collegatore vuole sia la dll sia la .lib ma sì libreria dinamica vuole anche quella statica e no perché se stai su windows se stai compilando usando il link dinamico il lib assume un altro significato non è più un archivio di oggetti ma è una tabella di dichiarazioni prima era una cosa e ora è un'altra cosa e quindi avete bisogno sia del lib sia della dll su windows le librerie anche le librerie dinamiche come per esempio vabbè non faccio vedere opencv tutte le librerie dinamiche hanno anche .lib mentre è un po' controintuitiva questa cosa invece negli altri sistemi una libreria dinamica .so oppure punto di libbre su macOS i vantaggi i vantaggi o male abbiamo ampiamente riscossi i svantaggi sono che dovete averceleste librerie nel sistema quindi o avete installato le dipendenze oppure le scaricate dai siti zozzi oppure oppure le dovete avere non solo dovete averle ma dovete averle visibili visibili significa che per esempio su windows c'è è una cosa che fa quando voi scaricate un per esempio il pacchetto di video studio ridistribuito le librerie quando le scaricate le installate tipicamente questo lo fa da solo il programma di installazione ma se non lo facesse da solo per esempio magari noi in questo corso dovremmo farlo dobbiamo andare nelle variabili di ambiente è spiegata questa cosa in una slide di qt andare nella variabile di sistema path dove ci sono tutti i percorsi in cui cercare gli eseguibili le librerie sono eseguibili e qui ci sono tutta una serie di percorsi dove andarle a cercarle e noi dobbiamo aggiungere quel percorso oggi dopo facciamo questa cosa anche su linux questa cosa si deve fare cioè noi adesso qua andremo a creare un collegamento dinamico però il nostro eseguibile dirà io non la trovo questa libreria dinamica e noi dobbiamo dire al sistema operativo di cercarla nella cartella dove abbiamo messo la libreria dinamica allora sì che il sistema operativo la troverà e risolverà la dipendenza quindi sta per avvenire comunque quello che sta per avvenire l'abbiamo previsto cioè non funzionerà all'inizio perché è necessario avere i file di libreria nel path di sistema questo l'abbiamo messo sul tavolo poi ci sono problemi di compatibilità quale versione se ci sono più versioni perché le librerie possono avere diverse versioni Qt 5.2 5.11 64 32 bit tutte queste cose vengono gestite egregiamente nei sistemi Unix su Windows no su Windows Windows non contempla l'esistenza di più versioni di una libreria pertanto su Windows c'è un problema noto che si chiama DLL l'inferno l'inferno dell'inferno delle DLL significa che su Windows se un programma ha bisogno di una versione e un altro programma ha bisogno di un'altra versione della stessa libreria sono cavoli amari la soluzione migliore qual è quella di anziché avere le librerie in un patch di sistema avere le librerie accanto all'eseguibile e questo è il motivo per cui molti programmi anche i giochi oltre all'eseguibile hanno le loro DLL accanto è brutto perché in realtà quella libreria probabilmente l'ha usata anche altre programmi che stanno installati però siccome nessuno si fida di nessuno i programmatori non si fidero di Windows Windows non contempla più versioni allora ogni programma ha la sua DLL e allora dove sta la condivisione? non ci sta e infatti viene stato più RAM viene stato più disco perché le DLL sono anche molto grandi e più disco più file ragazzi non è cioè non è un segreto che è un segreto di pulcinella che Windows nell'asse se mettiamo Windows l'usabilità e l'asse temporale ci accorgiamo che diventa sempre più lento oramente non è questo il motivo l'unico motivo ma è uno dei motivi per cui dopo tanto tempo cominciano ad apparire dei problemi qualcosa non funziona prima funzionava come è possibile? perché ragazzi le cose sono fatte così e sono fatte così da tanti anni non sono ancora state corrette e quindi ogni programma ha le sue DLL e quindi un sacco di spazi un sacco di RAM usa più RAM che voi usate Windows con i programmi perché usa più RAM perché ogni programma ha le sue DLL non fidandosi del fatto che non possono coesistere versioni diverse della stessa libreria comunque questo è un altro discorso ok facciamo adesso questa dimostrazione cioè dimostriamo come funziona il collegamento statico ho visto le vostre facce per un attimo ho pensato che fosse saltato il proiettore tutto a posto? ora dimostriamo come funziona il collegamento statico e il collegamento dinamico ora questo esercizio segue lo standard del compilatore GNU che è molto simile allo standard siccome segue lo standard del POSIX e così anche il compilatore del Mac OS userebbe comunque opzioni molto simili a queste che sto vedendo non vi spaventate per quello che state vedendo voi dite ma io in questo corso dovrò fare questa roba qui adesso questa è una libreria semplicissima quando ci avrà tanti moduli dovrò scrivere tutti questi comandi di 5-6 righe di testo solo per compilare il mio programma no perché arriverà uno strumento dopo che renderà tutto questo automatico ma per farvi capire il valore di quello strumento vi spiego come si faceva una volta ed è importante almeno capire che esiste questo modo di farlo ok quindi creiamo una libreria e la colleghiamo in maniera statica e poi la colleghiamo in maniera dinamica ok bene dobbiamo andare su linux questo è un ubuntu dobbiamo andare non è questo quello che sto voglio aprire un'altra cosa dove sta sta in cmakexample no non è cmakexample sì no scusate penso sì no va bene va bene quella va bene va bene quella cartella quindi siamo nella cartella GNU e puliamo un po' di roba abbiamo come file queste sono delle copie di backup abbiamo il cpp l'abbiamo discussi questi file il cpp della libreria che fa le low word l'header che dichiara la funzione fu e basta e il client che è il main che contiene l'invocazione della funzione fu e l'inclusione del letter noi dobbiamo fare due cose siccome stiamo usando la libreria non possiamo dire compila tutto quanto sì potremmo farlo compila tutto e va ma non sarebbe un programma che usa una libreria sarebbe un programma e basta quindi noi vogliamo avere due moduli il programma e la libreria quindi dobbiamo fare due azioni prima azione compilare la libreria certo la libreria è è codice il codice va comunque compilato deve diventare un file oggetto mazza qua ok oh vabbè lo faccio a mano il comando è gpp che sta per compilatore di cpp della suite GNU meno c sta per compila perché c'è anche l'opzione collega collegatore compilatore questo è il compilatore compila il file alib punto cpp atto significa che non ha riscontrato errori di sintassi l'analisi lessicale è andata bene semantica tutto a posto cosa è comparso adesso è comparso un file oggetto come avevo promesso quindi adesso il mio codice sorgente è diventato codice macchina però no senza però sì però c'è dei buchi questo codice perché c'è dei buchi perché facciamo quelli in cui è io stream no c'è la stampa a video infatti questo punto è grande 2 kilobyte ora in 2 kilobyte non ci può stare la libreria io stream è impossibile quindi è evidente che questo dentro c'ha sicuramente un buco lì dove bisogna stampare a video bene abbiamo compilato la nostra libreria il prossimo passo immagino sarà di compilare il nostro file eseguibile il prossimo passo è di creare la libreria è vero però potremmo fare sia la compilazione e poi il collegamento non è importante ok il prossimo passo è di compilare la libreria compilare significa dire metti tutti i file oggetto che ti dedico in un archivio quindi ar è il comando per dire archivia r vs sono delle opzioni r è un'opzione v ed s sono opzioni standard niente di particolare questo è il nome che diamo alla nostra libreria e questo è la lista di file oggetto che mettiamo nel nostro archivio ora essendo questa una libreria semplice la nostra lista di file oggetto è composta da un solo file oggetto quindi un solo file oggetto alib.o domanda come mai l'hai chiamata così questa libreria perché l'hai chiamata lib alib static allora alib static alib è il nome della nostra libreria static è per distinguere da quella che non è static ma questo prefisso qui non è una mia velleità la convenzione dello standard posix prevede che tutte tutte le librerie infatti più sopra vi ricordate quando abbiamo visto le dipendenze tutte le librerie tranne quelle del kernel inizino per lib devono iniziare per lib se non iniziano per lib non vengono proprio considerate dal sistema operativo è una convenzione tutto ciò che inizia per lib è una libreria quindi quindi l'ho chiamata lib per dire che è una libreria alib è il nome che le ho dato static mi serve per dire che è static ma potevo anche non scriverlo potevamo dire lib pippo però lib alib static ok quindi adesso è comparso un nuovo file che si chiama lib alib static punto a è un archivio questa è la libreria questa libreria è diventata un po' più grande però un po' più grande perché ha riempito un buco effettivamente ve l'avevo promesso ma non così più grande come mai perché non è così più grande perché c'è quella chiamata al sistema operativo in particolare quella chiamata a io stream e dietro le quinte è avvenuto senza che me ne accorgessi il compilatore quando si usano le funzioni del cpp è vero avrete ragione come avevo spiegato io le cose avrei dovuto dire collegati dinamicamente alla libreria del cpp ma il compilatore ce lo fa a gratis se vede che è una cosa del cpp siccome è una cosa dello standard dietro le quinte questo lib lib static che è una libreria statica è collegata dinamicamente alla libreria dinamica del cpp però è avvenuto dietro le quinte ok perché è standard non so se riusciamo anche a vederlo non penso possiamo usare questo comando però lib non penso non si può usare se non è non si possono vedere le dipendenze in questa maniera comunque dopo lo vedremo la dipendenza ok adesso dobbiamo compilare il nostro programma il nostro programma uno dice vabbè lo compili come hai fatto prima gpp-c alibio.cpp e viene fuori il file.o no scusate questo è per compilare scusate ho fatto confusione quindi dobbiamo compilare il nostro programma il nostro programma però è un programma eseguibile quindi possiamo anziché distinguere tutti i passi compila il file.oggetto e poi il file.oggetto farlo diventare un eseguibile tramite il collegatore possiamo racchiudere tutto in un unico comando che è meno meno significa da questi cpp tu mi devi dare direttamente l'eseguibile e io nel frattempo ti do anche le librerie quindi quello che vediamo qui adesso lo copio ve lo spiego il fatto che questa cosa sia complessa va bene perché quello che vi sto per spiegare dopo serve per evitare questa complessità quindi compilatore collegatore tutto quello che c'hai voglio un eseguibile meno l'output voglio un eseguibile che chiamerò cliente static a partire però client il nome il nome del file scusate il nome del file client ok client a partire dal file che contiene il main client io voglio un eseguibile che si chiama così già so già devo sapere che c'è una dipendenza da libreria esterna quindi gli dico caro compilatore anche collegatore dovrai collegare una libreria questa libreria si chiama alib static notate che manca il prefisso lib perché è scontato si dà per scontato tutte le librerie iniziano per lib quindi quando si vanno a linkare si omette lib meno l è il comando per dire linka alla libreria quindi meno l nome della libreria linka a libreria questo file di libreria lo deve cercare nelle directory di sistema o in questo caso gli sto dicendo cercalo nella cartella di libreria meno l grande significa ti sto dando il percorso della cartella dove trovare questa libreria punto è la cartella corrente quindi cerca il file alib static collegalo al al programma lo cerchi nella cartella meno l e in output mi devi dare client static bene è stato creato l'eseguibile io vado ad eseguirlo e l'offron fu funziona proviamo a vedere le dipendenze di questo di questo eseguibile dipendenze in termini di librerie dipende dal kernel dipende dal c++ non è una sorpresa dipende che non è una sorpresa perché c'è la stampa a video dipende dal c ebbè c++ dipende anche dal c m ragazzi non mi ricordo cos'è m è qualcosa che comunque ovviamente serve scusate questo è il kernel questo comunque è collegato al kernel è un modulo di sistema operativo per la gestione del display e poi c'è un'ulteriore libreria questa è la libreria del compilatore libcc significa libreria del compilatore perché questo è stato compilato con questo compilatore e quindi necessita delle librerie di quel compilatore per funzionare e questo è il motivo per cui i giochi dei ragazzi mi dicevano voglio la suite di Viso Studio 2015 non tutto l'ambiente voglio solo i ridistribuibili i ridistributebili ok cos'è che manca in questa lista tutte queste librerie ne manca una è la nostra manca perché perché l'abbiamo collegata staticamente quindi non c'è nella lista di dipendenze sta già dentro l'eseguibile ok va bene proviamo a fare adesso nell'altro modo compiliamo la nostra libreria in maniera dinamica ora anziché compilare come abbiamo fatto prima quindi adesso dovrei andare a cancellare il file oggetto di prima perché stiamo per ricrearlo remove alib.o ok non c'è più non c'è più adesso dobbiamo ricompilare la libreria però anziché compilarla come prima ci dobbiamo aggiungere un parametro fpick che significa pick pick sta per position independent code codice indipendente dalla posizione che significherà mai codice indipendente dalla posizione significa che questo non è un codice che andrà copiato in un eseguibile è un codice che andrà messo in ram e si creerà un riferimento dal programma a quel codice quindi il posizionamento a livello di indirizzamento delle istruzioni deve essere indipendente dal programma perché andrà nella ram questa sarà una libreria condivisa condivisa significa che le istruzioni non devono avere indirizzi che dipendono dal programma perché questo è un programma a sé stante ok sarà una libreria condivisa quindi un frammento eseguibile così vediamo se l'abbiamo creato abbiamo creato un libreria un file oggetto punto questa non è ancora una libreria è ancora un file oggetto che però è stato compilato con la direttiva PIC POSITION INDEPENDENT CODE ora siamo pronti per creare la libreria mentre prima la libreria la creavamo con il comando ARC che sta per archivia vi ho detto che le librerie dinamiche sono eseguibili quindi invochiamo il compilatore collegatore quindi G++ MENO SHARED significa guarda l'output che si sto per dare non è un eseguibile qualunque è una libreria condivisa che è un eseguibile però è una libreria condivisa MENO SHARED la chiamiamo lib alibshared.so perché questa è la convenzione so l'estensione lib il prefisso e la creiamo a partire da una serie di file oggetto ne abbiamo solo uno alib.o bene adesso abbiamo creato un file lib libashared.so e notate che la sua dimensione è un po' più grande più grande sicuramente della libreria statica perché potrebbe averci messo già qualcosa che serve per comunicare con la libreria dinamica dello standard proviamo ad eseguirla questo secondo me non ci riusciremo però almeno ci prova questa è la cosa carina ok è andato in errore va benissimo ovvio questa non è una libreria che la prima istruzione fa qualcosa di significativo però il fatto che ci abbia provato ad eseguirla vi è di dimostrazione che questo è eseguibile che poi abbia dato errore crashato ma è eseguito e ha delle dipendenze non so se me lo fa me lo fa dare ha delle dipendenze e cos'è che ha delle dipendenze un eseguibile e da cosa dipende guardate un po' dipende dal dal modulo che si occupa della stampa video non è una sorpresa dal c++ dal c da m dal kernel e dal compilatore quindi è un eseguibile che ha le sue dipendenze ora però dobbiamo collegarlo al nostro modulo eseguibile quindi adesso nostro modulo eseguibile diciamo puliamo un po' questa schifezza e diciamo compilatore collegatore tutto sto parlando con tutto il flusso di compilazione crea a partire dal cpp lo stesso di prima un eseguibile che chiamo client client vabbè shared che sta è diverso da quello di prima un eseguibile anche qui do la libreria vi dico la libreria si chiama libshared sta nella cartella corrente e notate che non ho detto che è una libreria dinamica lo capisce da solo lo capisce che punto è se ho e fa un collegamento dinamico quindi non è cambiato nulla rispetto al comando di prima solo gli ho dato un diverso nome all'eseguibile e un diverso nome alla libreria la creo provo ad eseguirla provo ad eseguire client shared non funziona perché non funziona io ho lanciato un indizio un quarto d'ora fa adesso è il momento di recuperare questo indizio perché non funziona beh lo dice proprio ci aiuta gli errori non sono una cosa brutta perché gli errori contengono anche gli indizi della soluzione lui dice cannot open shared object file no such file or directory non ha trovato la libreria allora prima qui è andata a buon fine perché l'ha trovato perché gli ho detto io dove cercare ma quando io eseguo un programma è il sistema operativo l'attore principale in questo caso il sistema operativo con il suo caricatore va a cercare le librerie condivise nei percorsi del sistema percorsi di sistema per esempio in linux è user lib in windows è c windows system 32 una cosa del genere lui non l'ha trovata io non ho mai messo la mia libreria nei percorsi di sistema ce l'accorgiamo anche da questa cosa se io adesso provo a fare la lista delle dipendenze guardate not found tra l'altro notate che le dipendenze di questo eseguibile sono minori delle dipendenze di quello statico perché perché questo eseguibile dipende dalla nostra libreria condivisa che a sua volta dipende da quelle altre dipendenze che prima c'erano nel caso di eseguibile statico comunque il succo è che non l'ha trovato allora come faccio a dire trovalo devo dire al sistema operativo devo cercare anche nella cartella in cui mi trovo quindi devo dire caro sistema operativo questo è un messaggio che io mando al sistema operativo esporta allora nella variabile path non so se si fa così non è sì non è exco è icho la variabile di sistema in windows si chiama path e guarda un po in linux si chiama path e in macOS si chiama no mi sa che non si chiama path in macOS comunque si chiama path su linux path è una è una lista di percorsi dove andare a cercare tutte le eseguibili e le librerie e io gli devo dire adesso che so che non c'è la cartella nostra gli devo dire caro caro sistema operativo adesso la variabile di ambiente path sarà uguale alla stessa devo stare attento perché se sbaglio cancello tutto quello che c'è e faccio casini anche su windows bisogna stare attenti se io cancello tutto quello che c'è non funzionano più i programmi come funzionavano prima quindi è un passo importante io prendo il valore di path prima di modificarlo e ci aggiungo oh sono un po' rugginito ragazzi perché queste cose non le dovrei fare io dovrebbe fare l'ambiente che vi sto per spiegare qual è il carattere di giusta posizione c'è un linuxiano qua dentro e due punti o primo o dopo non è importante comunque è due punti e ci metto user metto home devo mettere questa cartella benedetta dove ci troviamo questa cartella questa cartella ha il percorso questo percorso qui me lo devo copiare vabbè avrei potuto anche scriverlo a mano adesso se faccio i ciopat perfetto c'è anche il percorso della cartella dove si trova la libreria condivisa gombriamo la mente vediamo se la 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 dipendenza è stata risolta not found devo aver fatto un errore con l'export 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 ho fatto ah no 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 non è scusate non è il path avete ragione non bisogna fare questo è una variabile che si chiama dove si trovano le librerie ld library scusate ld sta per loader loader library path cioè è una variabile dove il caricatore cerca le librerie invece path dove il sistema operativo cerca le librerie ogni sistema operativo ha le sue convenzioni windows lo cerca nel path linux lo cerca nel ld path nel path del caricatore scusate sgombriamo la mente provato il caricatore ha capito che la libreria sta dove sta anzi l'ha proprio caricata l'ha direttamente caricata e a questo punto se noi seguiamo il nostro programma finalmente dovremo vedere questo è lo word from la libreria che sta già in ram condivisa quindi quindi per oggi finiamo qui però cosa ci aspetta la prossima lezione quindi oggi ho voluto dedicare volutamente questo approfondimento se no davvero non faccio niente in questa in questa sessione di di complementi di programmazione queste sono cose che teoricamente dovevate già sapere però siccome penso di che a questo livello di approfondimento magari non lo sapevate ho preferito fare questo ripasso la prossima volta vi spiegherò uno strumento la prossima volta è domani vi spiegherò uno strumento per automatizzare tutto questo cioè noi non dovremmo più scrivere tutte queste cose a video ma saranno automatizzate in un processo che si chiama CMake bene interrompo la registrazione saluto tutti i studenti in aula e online e Grazie.